Ciao amici del Centro Verde, oggi vi voglio parlare dei nuovi raserba batteria Wolfgarden. I nuovi raserba batteria Wolf sono veramente la sintesi della praticità e dell'innovazione nel campo del giardinaggio. Basta prolunga in giro per il giardino, basta con motori rumorosi dispendiosi in mantenimento e manutenzione, basta inquinamento. Tutto questo grazie alla batteria gli ioni di litio Samsung da 72 volt che ci garantisce prestazioni ed efficienza nel tempo, un'autonomia fino a 45 minuti di utilizzo monitorati dall'indicatore di carica integrato e ricaricabile in 60 minuti con il carica rapido in dotazione. I nuovi raserba Wolfgarden 72 volt sono equipaggiati con motori brushless a controllo elettronico di ultima generazione in grado di ottimizzare il funzionamento in qualsiasi condizione senza necessitare di nessun tipo di manutenzione. Possiamo cambiare la nostra modalità di lavoro con un semplice gesto passando dal taglio con scarico posteriore o raccolta alla funzione mulching. Leggero ed ergonomico è facilmente trasportabile grazie alla totale chiusura e alla comoda maniglia superiore. Il cesto di raccolta è provvisto di indicatore di sacco pieno ed è comodamente asportabile. Possiamo scegliere l'altezza di taglio dei nostri raserba Wolf da due centimetri e mezzo a sette centimetri e mezzo grazie al selettore centralizzato posto sulla scocca. Il manico è in soft grip e totalmente regolabile per garantirci il massimo comfort durante il taglio. Il convogliatore frontale a pettine permette ai fili d'erba di essere convogliati sotto al piatto in maniera più ordinata garantendo un taglio perfetto grazie alle speciali lame Sharp 2. Possiamo scegliere il nostro rasaerba Wolf Garden fra tre versioni il 34, il 37 o il 40 centimetri di larghezza di taglio. Tutti e tre alimentati dalle batterie gli ioni da 72 volt Samsung, batterie che possono essere applicate al soffiatore, al decespugliatore o al tosasiepi della gamma batteria Wolf. Un'unica batteria, quattro attrezzi. Se volete tagliare il vostro prato in maniera sicura, economica, ecologica e senza alcun sforzo, Wolf Garden è la soluzione che fa per voi, dandovi inoltre per la vostra tranquillità ben tre anni di garanzia. Per informazioni su questo prodotto clicca il link in descrizione, collegati al nostro sito internet, metti mi piace alla nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale YouTube.